me lo aspettavo mi aspettavo è stata una ragazza già al tavolo con l'ho colpilantato penso con l'accompagnatore e immaginavo comunque un locale come questo un posto bellissimo come signore e sicuramente stavolta i francesi ci potrebbero invidiare cap d'antibes sono posti l'italia c'ha un cap ma non si usa questo termine calma non so come capo si confonderebbe con qualche cos'altro quindi a questa lingua sul lago vede poi in realtà il capo se non su mare è questa cosa è unica questa striscia che si allunga appunto nella parte bassa la base la parte più ampia del lago di garda si chiama signore signore ha un posto bellissimo che lo so che esiste appunto in italia che sta ovviamente muovendo anche arrivo proprio dopo qualche rimando arrivo dopo qualche mese è anche uscita la vita d'espresso che appena rimesso signori come località non c'era l'anno scorso nell'edizione del 5 maggio e ha voluto proprio segnalare i due locali del momento con location particolare perché in realtà ce n'è un interco storico stellato appunto l'islam e adesso come dire almeno nel presso hanno individuato questi due e sono qui con con lo chef Roberto Stefani che non è parente con Gwen Stefani non glielo ho chiesto ma non c'entra niente con la cantante e quindi bene bene quindi quindi hanno fatto bene insomma a darci il cappello che era giusto per la tua cucina hanno provato a darci fiducia ecco e noi stiamo cercando di ripagarla con fiducia stiamo cercando di ripagarla proponiamo una cucina di mare abbiamo qualche composta di lago ma fondamentalmente ci sviluppiamo con il 90 per cento di pesce di mare e poi anche il salmone quando si usa il salmone è comunque di bianca dolce già è già cina pesce in realtà ci sono ci sono anche dei pesci anche molto popolari che si usano normalmente già già il 10 per cento sarebbe solo quello sarebbe solo il salmone che penso non possa mancare nella cucina di mare c'è in una preparazione che mi facciamo di farli assaggiare il salmone come facciamo un po' non ci vorrei della parola c'è un po' dei nostri conveghi francesi che parliamo insomma di aver valorizzato ulteriormente un antipasto ah quindi sarebbe il salmone cucinato come il pesce di mare si prende un salmone arriva un salmone fresco lo cucini lo devi chiaramente bene in particolari lo abbelliamo e poi cerchiamo di offrire questa estensione di sapori per i nostri clienti l'idea non è male anche per un piatto principale è un po' so che più in alto adisi c'è un po' questa sfida a cucinare fresco il salmone perché poi il salmone è proprio il pesce conservato che rimane buonissimo senza bisogno chiaramente andate tutti i giorni a cercare chiaramente il pesce giusto e fare all'asta perché dice questo poi quando bene 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 quindi intanto il piatto l'abbiamo già detto di quel 10% invece il restante a un istante sono piatti che adesso stanno diventando un master come abbiamo il granchio reale allora Tancredi il granchio reale o il vernizio nero il carbonaro della pasta che noi usiamo sono quei piatti che comunque stanno avendo dei risconti molto positivi e questo è sempre lui ecco abbiamo dato un leccolio che viene marinato al miso e viene accompagnato con un infeso ai punti rossi in un genere al berlinamoto cerchiamo di usare i propri motivi del territorio quali i limoni, i capperi, l'olive, i capperi, il capperi, il capperi, il capperi, il capperi, il capperi di sfruttare e valorizzare interamente il prodotto quindi questo è una cosa che dovremmo fare lì questo è un piatto qua è un set di pasta questo è un set di pasta quindi questo è comunque una pasta una pasta cosa potrebbe essere? se andiamo tutta una pasta sono un amante dei risotti sono stato a compleanni con il mio marchese da Anderetta per me il riso è il mio piatto qua trovo a finanziarmi e lo facciamo con questo mio io stavo facendo il faro il faro presente il faro che gira che vede appunto il passaggio perché vi dicevo prima in produzione poi mi dice questo continuiamo poi ci sono anche altre carni non c'è solo la carne e il pesce che si mangiano quindi si possono toccare altre cose altre cose che ci piacciono quindi questo risotto secondo me è molto interessante che è fatto con salmi limone candito uova di salmerino e polvere di salve lo spiego quindi noi abbiamo questo qui diciamo gli ingredienti poi alla fine del lago ci sono ci sono ci sono le uova le uova di salmerino esatto esatto poi molte volte succede gli osponanti fanno pesce e si mettono i soldi qua che vanno no? si usa magari anche un piccolo strutto comunque si usa il lardo di colonna nella cucina di pesce chiaramente non va bene per quelli che non mangiano carne vegetariani quindi rimane sempre degli anniboli è bene saperlo ecco quindi è sempre meglio chiedere come le rame piuttosto che le lumachie no? ecco sono lì a metà colgo la lumachina per vivere un'altra lumachina di mare ah un altro pasto eh beh molto molto ti dico una cosa molto ma sono allora perché sono le lumachine e questo allora l'ho scoperto recentemente ma sono anche le raguse sono bellissime che hanno poi questo mitico mi sento anche così che sta appunto all'interno che sono veramente molto piacere e tra l'altro nel caso delle raguse sono estetiche poi chiederò a Ciccio Sultano se sa che anche un valore aggiunto un aspetto interiore un incesimo per andare a per sempre meglio cercare di aiutare la micella e invece la comere a tutti bene il pane sempre il pane è un piatto no? è diventato è un gran piatto è un segnitore è un gran piatto è un gran piatto è un gran piatto è un gran piatto il pane è un gran piatto noi facciamolo facilmente tutto tutto in casa e facciamo anche questi grissini al limone perché comunque allo sul Garda abbiamo deciso e pensato di fare questo grissino al limone e aumenta la salivazione quindi è un è un buon inizio diverso che poi una volta c'erano anche i cedri perché la cedrata della Sony è qui in Salò che ho avuto modo di visitare adesso poi è passata anche la mano è passata la mano la Brutumnelli quindi Ferrari eccetera eccetera e lo diremmo dei rari esempi di prodotti bottigliati che si conservano dove la coca cola bevi effettivamente un estratto del cedro ecco perché adesso sono cedri che arrivano dalla Calabria una volta però stavano qua ecco e l'olio ad esempio con il pane è un piatto ma poi con l'olio anche c'è questo grande accompagnatore che appunto l'olio noi usiamo un olio casaliva che è un olio molte percentuale adesso lì adesso lì quindi parliamo di una decina di chilometri rigiochiamo in casa e quindi appunto dall'anno scorso che realizzavamo il pane con l'oro da quest'anno abbiamo discusso proprio concentriamoci sull'olio e diamo veramente della una proposta incettivando interiormente il territorio quindi la carne niente? poca abbiamo poca c'è abbiamo allora in ogni fatto abbiamo un baglio quindi abbiamo un piatto che noi proponiamo in due servizi poi come primo piatto abbiamo un pugilone di graniano al piccione quindi al piccione non può mai mancare e noi lo proponiamo sotto forma di coche con più e come secondo abbiamo due proposte una parola e un agnello questo è una proposta carnivora per i nostri due piatti come piatto principale quindi poi come la carta come oltre al menu tutti i piatti chiaramente ordinabili c'è anche una proposta che a mano libera non è dichiarata quindi è nel settembre ci devono fidare dello chef Roberto Stefani ci devono fidare di me anche una cosa cioè chiaro che il cliente una volta che poi viene anche una seconda volta chiaramente è più facile è più facile perché la prima volta penso che sarebbe troppa fiducia per mai dare troppa fiducia esatto non lo so però però è giusto secondo me affidarsi come certe non abbiamo dei buoni riscontri generalmente al menu che noi proponiamo di protezione totalmente di pesce tranne per richieste speciali da parte della piettela se no la mia proposta rigorosamente rigorosamente di quindi menù a mano libera di pesce di pesce poi se uno dice faccio il mano libera ci mette anche la carne assolutamente volentieri non sussiste e fa trovare un qualcosa di diverso oltre il tema quindi il menù è un menù con noi portiamo con gli stizzicini l'aperitivo due antipasti due primi piatti un secondo tre dessert e un dessert questa è una proposta completa una proposta unica non è che non è che uno può scegliere uno due tre piatti o comunque prendere i piatti che sono all'interno no non siamo arrivati ancora nella destructurazione quei piatti lì sono comunque anche ordinabili alla carne assolutamente si e a volte abbiamo fantasia istantanea come andiamo così per scatolare gli altri che comunque piacciono o che sono stati presenti nei menù nei menù precedenti cerchiamo sempre e anche chi viene più volte di non ripetere gli appostamenti dei piatti per dare gusti diversi e per non far mangiare sempre magari il solito king crab il merito ma proporre un qualcosa di diverso io per esempio ieri ho a Milano a Maricchio dove abito ho mangiato praticamente i tischioni che sarebbero con una sorta di non di calamari diciamolo consistente quello però è comunque un pesce che direttamente mi trova questo questo ristorante penso che sia importante avere anche queste cosine come capita immagino arrivino anche qua nel periodo chiaramente della muta la muta ecco quando possibile e poi c'è un gamberetto di lago che in realtà ha un nome talmente diverso un po' come l'ombri che il salmerino le crevis tu avrai conosciuto come il tuo giro a gare di esperienze che sono appunto questi crebibattissimi gamberi appunto di di lago di acqua di acqua dolce che dato io ho visto mi hanno al Clos de Saint che propone sia cucina vegetale che appunto lacustre mi portarono appunto questi io pensavo che sono degli insetti visi facevo vedere questa cosa chiesto diciamolo di cosa si trattasse perché ce l'avessero fatto vedere in realtà devo dire la cosa non mi era piaciuta ho detto sinceramente ma poi in realtà andarono a finire questo sugo questo giù ovviamente fatto con questi gamberi che effettivamente è particolarmente piacevole e è sicuramente una una chicca che abbiamo avuto in questi che abbiamo appena cannugato perché abbiamo cambiato da poco il menù ma abbiamo avuto il nostro gambero comunque dall'alto dall'alto base di carne quindi ecco assolutamente abbiamo fatto un'acqua di patate che è il gambero del fiume perché noi ci chiamo gamberi di acqua rosa non c'è un nome esiste anche tra l'altro un piatto del buon ricordo mi hanno proposto ai parti di san polo san polo di piave mi sembra sono i produttori del gamberinus che è praticamente insomma un concentrato quello di questo vino rosso del territorio del prosecco che si chiama rabuso che poi viene allungato dai barman dei cocktail e che ha questo piatto del buon ricordo con i gamberi praticamente del laghetto che sta lì però devo dire io non mi ero mai ciò che ti portano per mangiare ti portano il bavaglio il bavaglio il bavaglio tutto abbiamo pure fotografato queste cose però ecco non pensavo di aver fatto una cosa da gran gourmet effettivamente una cosa prelibata con questo vi salutiamo perché anche come chiedevano ad esempio a Bucosi sono chi cucina quando lei qui che saluto tutti sta a fare l'intervista cioè andiamo a cucinare ah ecco no no cucinano comunque anche dei cucinieri insomma ecco quindi c'è l'exec chef oltre appunto lo chef appunto principale quindi vi salutiamo qui da un posto bellissimo stupendo che è Sirione e dal ristorante Tancredi ah una cosa Tancredi perché? Tancredi ci sono un motivo perché questo è stato il gatto pardo non so un'opera del Tancredi quando Tancredi da Milano veniva a riposare sul lago di Garda lui aveva una casa impressa di questa baia quindi questa è stata chiamata la baia del Tancredi e di conseguenza la proprietà ha deciso di chiamarlo Tancredi in onore proprio al passo del Tancredi ecco il perché del Tancredi che è anche un'opera lirica del Tancredi